La squadra volante della questura di Ragusa nei giorni scorsi ha tratto in arresto un 39enne ragusano per maltrattamenti in famiglia. Nello specifico, l'uomo disoccupato è stato autore di violenze nei confronti della moglie, la quale, riuscendo a rifugiarsi in bagno, ha chiamato la polizia chiedendo aiuto. I fatti sono accaduti nella mattinata dello scorso 28 giugno, quando il 39enne ha sfogato la sua rabbia nei confronti della moglie e dei figli. La donna, infatti, è stata a seguito di una lite coniugale presa a pugni e sbattuta contro un muro dal marito e, riuscendo poi a sfuggirli, si è chiusa in bagno, da dove ha chiamato le forze dell'ordine. La volante è giunta sul posto e gli agenti hanno potuto constatare lo stato di evidente agitazione della donna, che era all'ingresso dell'abitazione. Così intervenute hanno evitato che la situazione degenerasse. La donna ha raccontato ai poliziotti che l'uomo, già in precedenza, l'aveva percossa e spesso aveva infierito contro di lei e di bambini. Quel giorno, però, non si è limitato a percosse e sfoghi verbali, ma gli ha sferrato un pugno in viso sbattendola contro il muro, una vera e propria ferocia scaturita da una lite. L'uomo, alla vista delle forze di polizia, ha però continuato il suo atteggiamento minaccioso nei confronti della donna, dicendo che, quando se ne fossero andati, avrebbe continuato a spaccare tutto. Il 39enne così è stato bloccato e portato negli uffici della sezione volanti, dove la moglie lo ha denunciato per gli ultimi avvenimenti e per i maltrattamenti precedenti. È stato infatti arrestato per maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla presenza di minori. I poliziotti hanno messo al sicuro i minori e portato la donna in ospedale per i controlli e le cure necessarie. Lì i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico frontale.